Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video in realtà è un video outfit è tantissimo che non ne registravo uno e ho colto l'occasione che insomma sto per uscire e quindi ho deciso di registrare questo video vi faccio vedere velocemente come sono vestita come accessori indosso questo braccialettino qua che ha tutti l'avevo preso da accessoraiso un po' di tempo fa e ha tutti questi ciondolini alle orecchie non ho messo niente e poi ho questa collanina con questo fiocchettino rosso che richiama un po' la camicia insomma le cose un po' rosse che ho addosso sotto ho questa canottiera che l'avevo presa a Tully Whale, credo che ci sia ancora l'avevo presa l'anno scorso ma ho notato che hanno ributtato fuori un po' di cose estive dell'anno scorso quindi secondo me la trovate ancora sopra invece indosso questa camicia che sinceramente non mi ricordo dove l'ho presa ma credo o da Bershka o da Tully Whale di solito le camicie le prendevo lì comunque sono quelle abbastanza lunghe da cui vi farò vedere il sotto ed è molto comoda perché ha questi buchini a lato dove praticamente potete passare il cioè la laccetto potete usarla come camicia chiusa più lunga ecco a me piace più aperta e essendo un po' insomma un po' primavera un po' pomeriggio quindi la uso aperta e vi faccio vedere cosa indosso sotto la lunghezza comunque è questa quindi è abbastanza lunga e mi copre un po' i fianchi quindi appunto potete lasciarla chiusa o aperta a me piace più così e anche la camicia arriva a coprire praticamente il sedere e sotto indosso questi jeans che vi ho fatto vedere nel haul precedente che avevo preso alla less ragazzi era un brevissimo video giusto per farvi insomma vedere un outfit visto che è tantissimo che non ne registravo uno e io scappo che vado da Luca e poi stasera si mangia il giapponese e vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.